Per dare una risposta immediata alle famiglie in difficoltà economica per l'emergenza coronavirus, la Regione Toscana ha stanziato 8 milioni di euro per varare misure di sostegno straordinario al pagamento degli affitti delle abitazioni. Le risorse sono in buona parte già state trasferite ai comuni toscani, che dovranno emettere rapidamente un bando e distribuire i contributi in modo da coprire gli affitti del mese di aprile, con la possibilità di estendere il provvedimento anche per i mesi di maggio e di giugno. I contributi possono arrivare ad un massimo di 300 euro nei comuni ad alta tensione abitativa e 250 euro negli altri comuni. In entrambi i casi però non potranno superare il 50% del costo dell'affitto. Potranno presentare domanda le famiglie di lavoratori dipendenti o autonomi che hanno un reddito certificato ISEE 2019 inferiore a 28.600 euro, attestando che l'emergenza coronavirus ha ridotto il loro reddito di almeno il 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.